Ciao Fabio, ciao a tutti. Libertà di espressione qui su www.maronline.it, sito nel quale i nostri ascoltatori possono acquistare gran parte dei libri di varia in commercio con uno sconto del 20%, finanziando la trasmissione. Ricordo l'importanza in sede di registrazione account della compilazione del campo Codice Cralco e la scritta Board Nights e la mia mail ordini-libreria-mauro.it per informazioni, chiarimenti e suggerimenti di lettura. Oggi ragazzi parliamo di UFO, un argomento molto caro a noi complottologi e del quale si sta occupando ultimamente sempre più spesso anche i media mainstream per via di qualche dichiarazione di governi e istituzioni, soprattutto straniere. Il primo libro che vi propongo oggi è UFO, parlano i piloti e come si evince dal titolo è una raccolta di tutte le dichiarazioni che ufficiali militari di varie armi diverse hanno rilasciato in merito ad avvistamenti e a, passatemi il termine, contatti con entità, oggetti non identificati. Altre dichiarazioni ufficiali, non solo i piloti rilasciano dichiarazioni ufficiali, ma anche, come abbiamo detto prima, governi ed organismi sovranazionali. È infatti l'argomento principale del libro di Umberto Tellarico stampato da Il cerchio della Luna. Il titolo è UFO, governi e organismi sovranazionali temono il contatto con civiltà extraterrestre. Ed è semplicemente una raccolta storico-documentaria di documenti e pronunciamenti ufficiali sulla realtà del fenomeno UFO, prendendo come spunto anche in questo caso dichiarazioni ufficiali di vari governi. Sempre il buon Tellarico, che è molto prolifico sotto l'aspetto per quanto riguarda l'argomento UFO, uno dei libri più interessanti che si possono trovare in merito è Le tecnologie delle idee extraterrestri. Oopart, Manufatti, repertercheologici fuori posto, sempre di Tellarico, sempre del cerchio della Luna e anche qua dal titolo si evince che questo saggio tratta appunto la presenza e l'analisi di alcuni oggetti, manufatti, reperti archeologici ritrovati in situazioni sia geografiche ma soprattutto storico-temporali non congruenti e che quindi ci pongono o dovrebbero farci porre profonde domande. Ancora di Tellarico, questo è il terzo e l'ultimo uscito, il titolo sempre per il cerchio della Luna ha per titolo Le nuove religioni ufologiche ed è un saggio nel quale l'autore in collaborazione con Giovanni Pellegrino, ci illustra quali sono le implicazioni di un'eventuale ammissione di contatto, di esistenza degli UFO, una questione che non tocca meramente l'aspetto fantastico ma avrà sicuramente ripercussioni sotto altri aspetti molto più importanti come quello religioso, psicologico, politico, sociologico e molto altro ancora. Quindi diciamo sarebbe un'influenza molto molto invasiva e a tutto campo. Ultimo libro che vi presento in merito alla questione UFO è di un altro amico della trasmissione, lui è Antonio Chiumento, è stato ospite penso da Fabio uno dei primi ospiti della trasmissione tantissimi anni fa. Il titolo è Obiettivo non identificato, in questo caso, dell'edizione Segno scusate, in questo caso è una raccolta di 85 episodi inediti legati appunto al fenomeno UFO, sia italiani che stranieri. Ricordo a tutti che Antonio Chiumento è famoso in ambito controinformazione o ufologia perché ha indagato un caso di circa penso 20 anni fa, successo in Italia, è il caso del, passatemi il termine, il mostro di Mortelliano, il caso di Mortelliano, un posto in Friuli dove appunto 20 anni fa c'è stato un avvistamento di una creatura gigantesca con testimoni e tutta una serie di questioni dietro, se non mi sbaglio il testimone principale, era andato anche in televisione, è stato preso in giro, solito discorso, soliti discorsi ragazzi, niente di nuovo sotto il sole. Chiudo parlando, proponendovi un titolo in merito all'interpretazione della storia da parte di Steiner. delle edizioni, adesso ve lo recupero, il titolo è delle edizioni, sempre cerchia della luna, mi dovranno dare una percentuale, Rudolf Steiner e Eduard Shuret, quindi ragazzi una super coppia, hanno scritto, è del gennaio 2020, storia esoterica delle nostre origini, le civiltà scomparse, Egitto, India e Atlantide. In questo saggio i due autori ci rendono notti l'esistenza di quella che viene chiamata sapienza dell'origine dei mondi, ovvero ci parlano dell'esistenza di una sapienza primordiale, trascendente ed eterna, che ci permette e ci permetterà di stabilire e di capire meglio non solo l'origine della nostra terra, ma soprattutto l'origine dell'uomo, per la quale sappiamo non abbiamo tutte le carte necessarie in mano e come ce la raccontano non è probabilmente come è andata. Chiudo ragazzi ricordando a tutti la possibilità di avere le opere del nostro Francesco Carpeoro con una dedica personale, quindi veramente una chicca unica e la possibilità solo e esclusivamente su www.maronline.it di acquistare l'incredibile opera di Massimo Michele Guerrieri, nuovo ordine mondiale, una trilogia divisa anche in 11 capitoli, grazie alla quale saremo fatti edotti di teorie e informazioni che in Italia o quantomeno in italiano non sono mai arrivate. Quindi parliamo di autori che abbiamo giusto sfiorato in qualche occasione in merito a qualche concetto di controinformazione, ma che nella loro completezza non sono mai arrivati bene. Il buon Massimo ha pensato di tradurli e di portarceli a noi, quindi invito tutti quanti a quantomeno ad andare a documentarsi su quest'opera che ripeto è unica nel suo genere. Per oggi è tutto Fabio, grazie mille per la disponibilità, grazie agli ascoltatori per l'attenzione, auguro a tutti una fantastica notte ai confini.